E' dieci, ne ho provato la chiusi? Mamma mia che bello! Bello! Bellissimo! Non ci credo! Luca entra e così chiudi la porta che vedono anche dietro la porta. Che meraviglia! Nella prossima settimana i bambini rimarranno espasiati. Bello! Sì, no no! Non ci credo! Bello, bello Silvio! Luca! Vai col commento Don Gianni, vai veloce! E' una meraviglia! Speriamo che i bambini possano ricevere veramente sollievo in questa sala prelievi di tenerezza e che attraverso questi delfini e questo acquario possano veramente sollevare il loro animo e corpo soprattutto quando fanno i prelievi. Che sia veramente un prelievo di tenerezza e che porti gioia al loro cuore. Grazie a tutti! Grazie! 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 Grazie!